Iniziamo subito da una conferma. Domenica 21 agosto il Montevarchi giocherà un amichevole con il Monterosi e il Brilliperi. Partita rigorosamente a porte chiuse per i notti problemi legati alla rifinitura dei lavori in tribuna. L'ufficio stampa della società Rosso Blu comunica che la partita sarà visibile in diretta Facebook sul canale ufficiale della società. Ma i problemi sono altri e derivano dal numero degli acciaccati che sta condizionando questa prima parte della preparazione. Due giocatori, Cerneso e Martinelli, hanno accusato problemi di carattere muscolare. Jallov boxe per una infiammazione mentre Barranca accusa dei fastidi ai tendini. Chiude il cerchio il portiere Mazzini che forse è quello che preoccupa di meno visto che ha avuto problemi alla falange. Nel conto ci mettiamo anche amichevoli poco esaltanti e si capisce che in Casa Rosso Blu si stia respirando un'aria un po' pesante. Morale serve ricompattarsi e augurarsi che l'infermeria si svuoti. Ci sono dei giocatori troppo importanti ancora fermi. Intanto è in prova il difensore Polidori. Vista l'emergenza non è detto che resti.